ciao a tutti ragazzi bentornati nel nostro canale youtube sono in compagnia di laura video manga di oggi dedicato al manga di ufo robot goldrich in particolare a questi due volumi usciti anni fa precisamente nel 97 98 della dynamic italia all'epoca ancora c'erano le lire ovviamente costavano 13 mila lire a volume ed era facevano parte di questa collana in cui la dynamic faceva vedere queste opere di gonagai appunto dei dei robot insomma di gonagai volumi molto molto belli particolarità ci sono le prime pagine a colori e poi praticamente disegni di gosaku ota e ovviamente storia originale di gonagai come si può vedere e poi particolarità che appunto si leggono da sinistra verso destra all'occidentale ecco qua ovviamente goldrich parla appunto della storia dell'alieno duck fleet che trova rifugio nella terra poi c'è ci sono anche i vari protagonisti in questi volumi di mazinga z ovvero koji kabuto che ritorna a pilotare qui un disco volante poi nell'altro volume vi faremo vedere c'è anche un grande mazinga mazinga zeta tetsui e koji che vengono fatti vengono ipnotizzati comunque come si può vedere volumi molto molto belli storia particolare di questo manga perché in giappone è uscito in quattro volumi ovviamente negli anni negli anni 70 poi successivamente in italia sono stati riportati questi due all'inizio poi più avanti è uscito un volume unico della divisual e poi successivamente sono uscite poi i quattro volumi veri e propri con la j pop e soprattutto con l'uscita con il corriere dello sport se non ricordo male comunque appunto consiglio a tutti di recuperare anche i quattro volumi usciti con la j pop e praticamente poi successivamente in un prossimo video farò vedere anche il volume unico della divisual che uscì esattamente infatti dopo dopo di questi consigliati ovviamente da tutti gli appassionati di goldrick e dei robot di gonagai ovviamente questi li potete reperire solo su ebay o qualche fiera del fumetto perché ormai sono abbastanza adattati a livello di storia ti era piaciuto rispettavo abbastanza l'anime sì diciamo di sì a parte ci sono delle storie come in questo volume qui come come ho detto prima del grande mazinga di mazinga z che tetsuya e koji vengono tipo ipnotizzati ok che nell'anime poi non compaiono proprio quindi sì storie originali sì storie un po così e però sì nel complesso mi sono piaciuti molto e poi riassumono questi due volumi un po tutto quello che è l'universo di ufo robò goldrick e niente ragazzi per il video manga di oggi è tutto se il video vi è piaciuto lasciate un mi piace commentate o condividete se volete iscrivetevi al canale un saluto a tutti e al prossimo video ciao ciao ciao